Il derby importantissimo che vale i playoff, quello tra Alba e Torrese, la spunta alla formazione di Cristofori che vola sempre più in alto per i padroni di casa, più che un rammarico con il rigore sbagliato da Miani Spartiacque del match. Prima frazione abulica tipica dei derby d'alta quota dove i punti valgono doppio, primo squillo Alba, al decimo Miani riceve, controllo non perfetto, fendente al centro ma Super Malocu salva tutto spazzando via la sfera. Al ventesimo ancora i padroni di casa, ancora con Miani ma il pallonetto della punta non è preciso. L'ultima emozione è ancora di marca rosso-verde, Cichella prende la mira grande bordata, disinnescata da Abate. Nella ripresa parte subito forte la Torrese, azione insistita in area, Gelsi conclude ma la sfera impatta sul muro di casa. Al cinquantacinquesimo però arriva l'episodio che può sbloccare il match. Passamonti si insinua in area e viene trattenuto da un avversario per Danilo di basto. Ci sono gli estremi per concedere la massima punizione. Dagli undici metri va il solito Miani che però cestina tutto calciando alto. Al ventesimo di nuovo la squadra di Cristofari, Esposito attacca alla profondità, Macincischia e perde l'attimo. Poco male per la compagine ospite. Mosca riceve sterza e dal cuore dell'area albense non può proprio sbagliare e sigla così il pesantissimo vantaggio ospite. L'alba accusa il colpo e non riesce a produrre azioni degne di nota. A due minuti dal termine su corner svetta Cichella ma la sfera gira all'arca e si spegne sul fondo. Nel primo dei quattro minuti di recupero e Passamonti da ottima posizione su calcio piazzato ad andare vicino al pareggio. È l'ultima emozione del match. Una torrese Corsara si aggiudica all'intera posta e vola sempre più in alto contro un'alba poco lucida che ha tanto da rammaricarsi. Mister Cichella nonostante la sconfitta la vediamo abbastanza positivo. Quest'alba ci ha provato. Pesa però ovviamente tantissimo il rigore sbagliato. Il calcio è questo. Capita. Magari sbagli un'occasione come è capitato nel rigore ma vabbè ci può stare. Il rigore si sbaglia. Chi non li tira capita nel calcio. Poi forse un po' di ingenuità sul gol. Hanno vinto qualche rimpallo di troppo. Però la prestazione c'è stata. Dal mio punto di vista l'alba triatica ha disputato una delle partite più belle sotto l'aspetto dell'intensità del gioco. Su un campo tra l'altro difficile anche da su cui giocare. Una sconfitta che però non pregiudica assolutamente il vostro sogno chiamato playoff. Cosa deve fare quest'alba per ripartire al più presto? I ragazzi devono continuare su questa strada. Il campionato mancano ancora sei partite. Noi siamo ancora dentro. L'obiettivo iniziale magari non era questo. Cercheremo di arrivarci fino in fondo. La strada è quella giusta perché, ti ripeto, la partita nella valutazione oggettiva va fatta e giustamente la squadra oggi è dominata sotto tutti i punti di vista, sia fisici che tecnici. Dopo magari le valutazioni vengono fatte in base al risultato. Ci atteniamo e andiamo avanti. Diciamo che per noi era la terza partita di una settimana. Abbiamo affrontato praticamente tre finali. Avevo detto ai ragazzi che oggi sarebbe stata una partita sporca, difficile perché il campo non permetteva di esprimere il nostro calcio. Siamo stati bravi nel calarci subito nella partita, con grande sacrificio, grandissima umiltà. Siamo stati anche un pizzico fortunati, però io dico sempre che gli episodi ti girano a favore quando te li vai a meritare. Sicuramente l'episodio del rigore sbagliato da parte loro sullo 0-0 ha cambiato un pochino l'inerzia. Abbiamo trovato noi il gol del vantaggio e avevo detto nell'intervallo che chi avrebbe segnato avrebbe vinto la gara. Ho vinto la gara. Quanto è più importante concentrarsi sul primo off e quanto sulla Coppa Italia? Dico ai ragazzi volta per volta di prepararci alla partita successiva perché noi non abbiamo un obiettivo principale. Abbiamo preparato al meglio la partita di oggi senza pensare assolutamente alla partita di ritorno che effettueremo mercoledì. Da stasera iniziamo a pensare alla partita di mercoledì, ma volta per volta la partita successiva è sempre la più importante. Il ritorno di mercoledì, 2-0 l'andata, un risultato che lascia più che una speranza per il passaggio del turno? Sì, è un risultato importante. Ci fa sperare per il ritorno, però nel calcio non è mai detta l'ultima. Quindi bisogna andare giù con la massima umiltà, massimo sacrificio, sapere che affronteremo una squadra difficilissima che in casa vorrà provare a ribaltare il risultato e ci faremo trovare pronti.